Frosolone, Frescellone in molisano e Fruselone in dialetto frosolonese, è un comune della provincia di Sernia, i cui abitanti sono detti frosolonesi e il cui patrono è Sant'Egidio. In un angolo tra i più belli dell'Appennino centrale sta questo piccolo borgo dal fascino rurale. Delle antiche transumanze restano i profumi del caciocavallo e l'arte dei coltellinai, le stradine sul cui selciato passavano le mandrie, la pietra e la roccia che fanno da contorno. In primavera i prati esplodono dei colori dei crochi e delle margherite calpestati da doci di mucca al pascolo. Le balle di fieno raccontano l'estate, l'autunno si legge nei rami delle faggete, l'inverno è il caminetto di una fattoria che fuma. Gerani fioriti si affacciano dalle finestre e dai balconi e il grande Tiglio rende la piazza un po' francese. Lo straordinario altare intarsiato della chiesa di Santa Maria delle Grazie è l'ultima visione che conserviamo prima che la sera scenda sul borgo, rendendolo ancora più intimo e raccolto, stretto intorno alle sue pietre che parlano se si vuole ascoltarle. Il suo nome potrebbe derivare da Frosinone. Fonti dell'abbazia di Monte Cassino fanno riferimento a una colonia di immigrati proveniente dalla città Ciociara. Chiese e monasteri benedettini presenti in zona dal mille confermerebbero il legame con Frosinone e Monte Cassino, anche se un'altra fonte fa risalire il toponimo al Frosinone, l'uccello che compare nello stemma comunale. Tra il 500 e il 400 a.C. popolazioni oscosannitiche sono presenti sul territorio in epoca preromana. A nord del paese, in località Civitelle, sono visibili resti di mura megalitiche. Tra il 600 e il 700 d.C., con la dominazione Longobarda, il territorio appartenne alla contea di Sernia. Documenti del 700 citano i monti Freselona nelle vicinanze di Monte Cassino, mentre un altro documento del 1020, con la medesima espressione Freselona, designa un affluente del trigno che nasce dai monti di Frosolone, rendendo espliciti i legami di discendenza con la zona di Frosinone e l'abbazia di Monte Cassino, ancora una volta, attraverso la via latina percorsa ai demonaci benedettini nel 1000 e nel 1100, poi sotto i normanni Frosolone fu feudo dei Borrello di Agnone, ritornando successivamente ai conti di Sernia. Una lapide del 1339 riporta la scritta Siste et Bibe Viator, che è quanto resta dell'antico monastero di Santo Nofrio. Nel 1500 i conti di Montagano diventarono i nuovi feudatari e a seguire i Marchesano e della posta. Nel 1805 il terremoto provocò la distruzione di quello che era il secondo centro del Molise dopo Campobasso.